Buon compleanno, Canale 5, la festa continua. Allora, buon compleanno, Canale 5, e grazie. Dall'80 al 90, tutto Canale 5, tutto per te. I programmi e i personaggi più di questi dieci anni di tv. Ecco i top ten del 1983. Falpalà, Ciao Gente, Festival Bar, Bandiera Gialla, Help, ZigZag, Record, Rick Jean Folli, Beauty Center Show, Drive-In. Presenta la coppia più simpatica della tv, Sandra Montagini e Raimondo Vianello. Insieme all'amica di ogni settimana, Heather Parisi. Venerdì alle 20.40, buon compleanno, Canale 5, la licenza continua.